Oltre al cremasco colpite la zona di Piadena, Torre dei Picenardi, Cadandrea, Calvatone, San Giovanni in Croce, colpite soprattutto alcune colture a cominciare dal Mais, l'assessore regionale all'agricoltura Beduschi ha ribadito che ha intenzione di chiedere lo stato di calamità dopo aver sentito il ministro Lullo Brigida. La testimonianza di Serena Antonioli, imprenditrice agricola nella zona di Vescovato e vicepresidente col diretti Cremona. Nella giornata di ieri in poco tempo è arrivata questa grandinata improvvisa che è durata 5 minuti e in 5 minuti ha rovinato pesantemente le seconde semine, i secondi raccolti. Come si può vedere questo mais piccolo è gravemente compromesso e i mais di prima semina che erano quasi pronti per il raccolto sia per i trinciati che per i pastoni erano quasi pronti, sono gravemente danneggiati. Questo per l'agricoltore è veramente un colpo gravissimo perché comunque è il lavoro di tutto l'anno, è il lavoro di tutta la stagione ed è veramente una cosa che colpisce al cuore l'agricoltura. Come col diretti chiediamo che intervengano con nuove strategie al di là del risarcimento per tutelare i coltivatori e le proprie lavorazioni perché questi eventi sono sempre più frequenti, sempre più forti, sempre più gravi nei nostri confronti. Quindi crediamo un intervento importante da parte delle istituzioni che ci siano vicini. Una situazione molto difficile e non manca la commozione. Tra i problemi l'aumento delle polizie assicurative. L'assicurazione sicuramente, viste le entità dei danni degli ultimi anni per tutti questi eventi atmosferici, sono aumentate molto i premi che sono stati attribuiti alle aziende per chi vuole assicurarsi. Dopo per quanto riguarda l'azienda diventa una scelta, però ad oggi ritengo che diventi una scelta necessaria perché con questi eventi improvvisi di questa potenza per tutelarsi diventa una scelta necessaria. Perché tra ieri e nei giorni passati in tutta la provincia di Cremona si è stati colpiti un po' ovunque perché nella zona del cremasco tra trombe d'aria e grandine ci sono state zone dove il mais è stato completamente allettato, dove ci sono state stalle scoperchiate, stalle rotte, vetri rotti dalle stalle, i danni sono stati molto pesanti.